Che cosa sono gli infissi di legno alluminio e perché dovresti sceglierli? Ciao, sono William Bisacchi di Infissi Bisacchi dal 1973 e da così tanto tempo ci occupiamo di infissi per abitazioni private con il sistema Bisacchi. Oggi per rispondere a questa domanda ho preso un pezzo di un infisso, tra l'altro anche molto bello, in legno alluminio, perché le cose vanno viste per essere capite. Questo è un legno lamellare di larice nella parte interna e l'alluminio della parte esterna. Da qui deriva il nome appunto infissi in legno e alluminio. In questo caso abbiamo anche un triplo vetro, quindi abbiamo una prestazione termica molto molto importante, un infisso che è bello internamente per gli amanti del legno, caldo al tatto, molto molto isolante, esternamente è un infisso molto resistente, molto durevole, come un infisso in alluminio. Questo è un infisso praticamente che ha solamente dei pro e non ha dei contro. Cioè l'unico contro chiaramente è il costo, perché un infisso di questo tipo, che è composto da due materiali, ha il costo di un infisso in legno più di mezzo infisso in alluminio. C'è proprio una questione tecnica, costa di più non per la marca per qualcosa di impalpabile, ma per qualcosa di reale. È un infisso che ci vuole più tempo, più materiale e più dispendioso da produrlo, ma dà anche tanti benefici. Un'altra particolarità dell'infisso in legno alluminio da tenere ben presente è che avrò sempre due finiture diverse, esterno da interno. Non c'è bisogno che siano così tanto differenti, però ad esempio, anche se scegliamo un infisso laccato bianco, la laccatura nella parte interna del legno, anche con lo stesso RAL, sarà diversa dalla laccatura esterna dell'alluminio, perché anche a parità di colori, di verniciatura, se vernicio dell'alluminio, se vernicio del ferro, se vernicio del legno, se vernicio del vetro o se vernicio un muro, avrò sempre delle tonalità leggermente diverse. Cioè, l'occhio le vede leggermente diverse perché la superficie dove appoggia la vernice è diversa. Per parlare di tutte queste cose, è importante fare una consulenza prima di scegliere l'infisso, perché altrimenti quando vai a farti il preventivo, ogni rivenditore ti dice la sua e ognuno tira l'acqua al proprio mulino. Invece, se tu richiedi una consulenza con Sistema Bisacchi, potrai essere sicuro della scelta, perché ti potrò consigliare qual è l'infisso più giusto, qual è il preventivo, dove ti hanno fatto bene. Fatto bene non significa fare il prezzo migliore, significa che c'è scritto che capisco che l'infisso è costruito bene, che è posato bene e che ci sono delle garanzie. Per richiedere la mia consulenza, vai su www.blogbisacchi.it e richiede la tua consulenza. Ciao e al prossimo video! Al prossimo video! Grazie per la visione!